Scatenato il DS del Campobasso Filipponi che nelle ultime ore ha chiuso anche per il trequartista della Luparense, Alessio De Cerchio, classe 97, lo scorso anno in forza alla Vastese. Finora con i laziali De Cerchio ha realizzato sei gol. Non è il solo aggiungere alla corte di Pergolizzi, c'è anche un centrocampista fuori quota, il greco Marios Crisovergis, classe 2004, proveniente dalla Pistoiese. Può fare sia l'esterno alto di centrocampo che il laterale basso mancino. Under Duttile riferiscono le cronache. Questi due giocatori si aggiungono al già arrivato di Filippo. Tre acquisti in una settimana e la rivoluzione non termina qui, si attendono altri arrivi ufficiali. C'è Maio per il quale pare che il Riccione stia temporeggiando prima di lasciarlo andare. Trattativa ancora in corso. De Cerchio, l'ultimo arrivato, che ha svolto questa mattina il primo allenamento alle 13.30 a Campo di Pietra, potrebbe essere a tutti gli effetti l'alter ego di Coquen. Pergolizzi commissiona una serie di acquisti che potrebbero essere idonei ad un 3-5-2 con i fuori quota smistati tutti, fra porta, centrocampo e difesa. Almeno questo appare dai movimenti che si stanno compiendo sul mercato. Una metamorfosi profonda che ha portato per ora all'ingaggio di ben 11 calciatori nuovi. Anche il tessuto societario si va arricchendo con la collaborazione instaurata da qualche giorno con l'azienda molisana Acqua Castellina. Domenica a Servapiana, altra tappa significativa. Scende in Molise il Chieti di Mister Chianese che vuole competere per il vertice con la San Benedettese e il Rosso Blu. Sarà gara vera per l'alta classifica. Facile pensare ad un pubblico molto simile nei numeri a quello visto contro la San Benedettese due settimane fa. Il Termoli pronto per la trasferta all'Aquila ha posto in uscita i calciatori Vitiello, Bentos e Sarracino. Ringraziamenti e in bocca al lupo da parte della società che ha di contro dato il benvenuto. Al centrocampista Lorenzo Longo, giocatore di grande esperienza in Serie D proveniente dal Gravina. E all'attaccante Pablo Burzio, argentino che ha vestito le maglie del Lavello e del Casarano. Ha giocato anche nella massima serie in Ecuador. I due neoarrivati saranno a disposizione di Carnevale per la partita di L'Aquila. Si muove concretamente anche il vasto Girardi impegnato a Tivoli. A disposizione di Marmorini ci saranno gli attaccanti Alexis Ramos e Raffaele De Martino. Il primo è di origini spagnole, può ricoprire il ruolo di esterno d'attacco trequartista. Raffaele De Martino, nato a Pompei nel 2000, è un attaccante centrale. Lo scorso anno quattro presenze con il Notaresco e quattordici presenze con l'Acireale, siglando due reti. In questa prima parte di campionato quattro presenze con l'FC Matese. Ha vestito le maglie di Nocerina, Notaresco e Acireale. I due nuovi si sommano al centrocampista Lisi. Altro volto nuovo giunto al vasto Girardi due settimane fa. In anticipo partita delicata per l'FC Matese in casa contro il Monte Rotondo. La squadra che ha perso di più nel girone F. Ben 10 gare su 15. Un'occasione davvero propizia da sfruttare per i casertani per tornare al successo.